sicuramente di cattivo gusto sono state le storie postate dall'ex concorrente del grande fratello luca onestini che ha approfittato del maltempo in emilia romagna per piazzare uno sponsor di fatti l'ex divana marzova ha introdotto il suo sponsor parlando del maltempo e delle strade bloccate se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile ne approfitto e gioco inserendo il nome di un sito di scommesse online questo tempo continua a farci penare però l'importante è trovare un senso anche le cose che troppo senso non hanno cercare di rendere produttivo ogni secondo quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile ne approfitto vi do questa soffiata le 15 di oggi tirano nuove aste con una marea di prodotti apple quindi cosa aspetti ti metto il link qui registrati subito mi raccomando non dirlo a nessuno registrandoti al mio link riceverai 20 puntate completamente gratis non hai nulla da perdere ma tanto da vincere inutile dire che nei momenti successivi è scoppiata la polemica sui social in molti gli utenti che si dicono schifati dalle parole dell'influencer che invece di mostrare solidarietà alla sua terra ha approfittato del momento per lucrarci su e tu cosa ne pensi